L'importanza e i benefici della pet therapy. Il tema è stato al centro dell'incontro del Corpo Gab di Torre del Greco con l'On. Costa sabato pomeriggio presso l'associazione Empatiamoci di San Sebastiano al Vesuvio, una tematica di grande attualità. Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato le potenzialità dell'impiego degli animali come strumento di cura, in particolare negli ospedali e nelle case di riposo per anziani. Un incontro proficuo. L'On. Costa ha visitato il centro e poi si è confrontato con i volontari sulle problematiche legate all'istituzione a livello nazionale della figura della Guardia Ambientale Volontaria. A tal proposito il Corpo Gab ha organizzato un seminario tecnico-giuridico che si terrà sabato 21 ottobre presso l'Istituto Comprensivo d'Assesi Don Bosco di Torre del Greco. Il seminario è aperto a tutti, gratuito. A termine sarà rilasciato al regolare attestato di partecipazione. Grazie. Grazie. Grazie.